Lo slogan della nostra società è Calciosmania, il calcio in allegria. Le ragazze napoletane vogliono giocare a calcio, vogliono arrivare ai grossi livelli che sono quelli del nord, del nord Europa. Lavoro con questo gruppo da tre anni, il progetto è molto molto serio. Questo progetto tre anni fa, campo Scarfoglio e campo Posillivo, da quest'anno dove giochiamo con la squadra che milita nel campionato di Serie B. Abbiamo messo a disposizione una struttura che è importante, una società strutturata in maniera molto seria e con un programma che oggi ci porta ad essere all'avanguardia in Serie B e puntiamo decisamente ad andare in atto. Abbiamo una scuola calcio di giovani atleti, abbiamo un under 20 che è composto da 20 ragazze. La molla che spinge, a prescindere le ragazze e anche i ragazzi, è quella del piacere di fare sport, di una passione innata. Magari De Laurentiis ci proverrà un gemellaggio perché questo calcio ha bisogno di tifosi e noi siamo sicuri che i tifosi napoletani, se scoprono, perché devono scoprirlo, che esiste una squadra, tutte e tutte donne che giocano a calcio, potranno cominciare a seguirle e quindi dare anche un senso a queste ragazze che, ricordiamo, giocano gratis, è un po' l'essenza del calcio dilettantistico e c'è divertimento. Sì, è stato un anno fantastico perché... Ciao! Sono cose che capito purtroppo. Che cos'è? Che cosa hai cattuto? È un ruba? Pallone. Pallone? Oh, questo Michele mi ha dato. Diciamo che queste quattro sono un po' la punta di Damiano, di... Bla 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 bla. Ma quando vedete questa cosa, lo voglio fare io. Grazie. Grazie Michele. Un malato! E per non perdere neanche una notizia della vostra squadra, www.skylife.it slash napot